andiamo a raccontarvi quelli che sono quelli che noi consideriamo degli stress test da applicare alla tenuta e alla capacità di gestione del governo draghi che sicuramente ha più gatte da appellare in questo momento c'è la questione del quirinale sicuramente ma come vedete ci sono quattro dossier sul tavolo del esecutivo draghi mi riferisco a telecom o team mi riferisco a ita airways l'ex alitalia ilva che adesso si chiama acciaierie d'italia e poi mps quattro dossier quattro stress test che effettivamente bisognerà in qualche modo tenerne conto anche in virtù di un eventuale passaggio di consegne da parte di mario draghi nei confronti di chi al posto suo dovesse subentrare se appunto accettasse il l'attuale presidente del consiglio linka l'incarico di presidente della della repubblica allora facciamo vedere facciamo un altro recap non solo il titolo ma anche in grafica eccolo qua team montepaschi di siena c'è ieri d'italia ex silva ita airways ex all'italia sono quattro situazioni in divenire magari c'è un dossier più diciamo meno complesso rispetto ad altri ma sicuramente sono argomenti che dovranno essere trattati e anche con una certa urgenza partiamo da telecom partiamo da team che mica per niente oggi è il titolo più venduto a piazza affari e il motivo è che sostanzialmente l'offerta l'opa di kkr sembra più lontana da telecom e questo il mercato non lo ha diciamo al momento non lo sta digerendo così bene allora il dossier team tra kkr e fibra unica spiega il nostro il nostro cartello quali sono le situazioni quali sono diciamo i nodi da sciogliere la nomina del nuovo del nuovo amministratore delegato avverrà il 21 gennaio in durante il cda un nuovo piano industriale che ci si attende appunto dal cda c'è l'ipotesi ancora sul tavolo dello scorporo della compagnia perché perché il governo in questo senso sembra diciamo che sto più volte abbastanza chiaro l'idea è di rendere la compagnia team equipararla diciamo alle altre a vodafone a wind 3 insomma renderla una compagnia commerciale privata punto insomma renderla una compagnia normale e non più diciamo politicamente strategica in questo senso si potrebbe agire in questo modo cioè lo scorporo da una parte c'è immaginiamo una torta che viene divisa in due parti non per forza uguale una parte diventa appunto un rimane un'azienda che fornisce servizi internet telefonia eccetera eccetera l'altra potrebbe essere utilizzata per finalmente perché se ne parla diversi anni e qui andiamo al 1 2 3 al quarto punto l'ipotesi fibra unica con open fiber in questo modo andremo a creare quella fibra unica e quindi a garantire una linea internet che sia affidabile che sia solida e che possa arrivare in ogni parte d'italia ci sono ancora alcuni borghi alcuni angoli italiani dove la fibra unica non arriva e quanto è importante avere una fibra unica e solida lo abbiamo scoperto proprio con il covid dato che oggi si lavora in smart working oggi si va a scuola in didattica a distanza questo è una pista sicuramente calda ma dall'altra parte c'è anche l'opa del fondo americano kkr è un'opa come sapete un po che ha deluso diciamo le aspettative e che diciamo è sì più alta del valore di telecom in questo momento del valore dell'azione di telecom in questo momento ma che è molto inferiore rispetto a quanto ha pagato vivandi per entrare a dentro dentro team vivandi adesso è oltre possiede oltre il 20 per cento insomma di di team mentre ricordiamo che c'è anche cdp cassa depositi e prestiti che occupa il 10 per cento cassa depositi e prestiti che è dentro anche open fiber per il 60 per cento e questo è l'interesse evidentemente del governo perché cdp è comunque una controllata dal ministero economia e finanza per andare a creare appunto quella che è una rete unica con open fiber il problema è che kkr il fondo americano ha fatto sapere di voler ancora puntare su su telecom sta cercando diciamo aiuti economici in particolare nell'arabia saudita ma è anche vero che un'opa affinché si completi al cento per cento ha bisogno di tempo calcoliamo un paio d'anni e forse quei due anni insomma team non vuole non vuole aspettare il governo non vuole aspettare meglio evidentemente la pista diciamo della della rete unica e alla scissione appunto da una parte telecom telefonia e servizi dall'altra una la compagnia che va a fondersi con open fiber che ricordiamo era nato su iniziativa di enel per cercare di fare concorrenza insomma al resto delle delle compagnie che offrono la fibra ottica una sovrapposizione di costi è stato diciamo stimato forse eccessivo mettere insieme diciamo risorse ed energie può essere una soluzione e questo per quanto riguarda telecom andiamo avanti per un argomento che abbiamo già affrontato più volte anche durante le nostre dirette mps questo matrimonio con chi sa da fare l'unico modo per salvare montepaschi è di fatto cercare di darla in sposa o in sposo a una compagnia un istituto bancario più ampio il tentativo con unicredit è stato fatto ed è fallito come vedete c'è una x chiaramente su un tentativo che non è andato a buon fine si era parlato soprattutto a fine anno fine 2021 di una possibile inserimento di mps anche nell'affare biper banca controllata da unipol carige e banca popolare di sondrio è ancora in divenire carige e biper banca sono dentro pop sondrio si sta convincendo ma no a quanto pare mps non farà parte di questa di questo nuovo che si presume si possa diventare terzo polo bancario italiano ci sono ancora due strade forse tre ci sono gli istituti francesi italo francesi credito agricola ad esempio il punto di domanda ce l'abbiamo messo perché ovviamente sono ipotesi ma di cui si parlerà nel corso del 2022 credito agricol ha già cariparma ha già diciamo sta concluderà ad aprile l'operazione creval credito valtellinese e chissà che non possa entrare in campo anche per quanto riguarda unicredit nessuna notizia da ben pe paribà bnl ma come sapete mai dire mai le fusioni sono all'ordine del giorno per quanto riguarda il comparto bancario in europa non solo in italia quindi possiamo aspettarci qualcosa chissà magari anche da banco bpm che insomma dopo aver in qualche modo digerito e assimilato il la fusione appunto tra banco popolare bpm potrebbe potrebbero arrivare nuovi nuovi spunti e nuove iniziative per non parlare della fusione che abbiamo raccontato e che insomma è stata la protagonista del 2021 quella tra intesa e ubi questo per quanto riguarda monte dei paschi di siena ovviamente ogni dinamica ogni gioco ogni strategia verrà in qualche modo messa diventerà più concreta dopo l'affaire del quirinale e quindi bisognerà aspettare un po salvo sorprese salvo colpi di scena colpi di scena che sull'affare invece acciairi d'italia ex ilva per ora non ce ne sono il piano industriale presentato è sicuramente ambizioso troppo ambizioso chi lo sa beh sa di fatto che è stato messo la lasticella molto in alto 8 milioni di tonnellate di acciaio da produrre in dieci anni e non in cinque anni riduzione del 40 per cento di co2 del 30 per cento di polveri sottili l'utilizzo del metano al posto del carbone per la realizzazione la produzione di acciaio e soprattutto l'impiego dell'idrogeno allo scadere di questo decennio per un totale di investimenti che non bastano serviranno ulteriori aiuti di circa 4,7 miliardi di di euro dicevamo insomma serviranno sicuramente aiuti al anche magari attraverso il governo sono sul tavolo insomma ci sono diversi argomenti aperti anche con i sindacati ripeto insomma questo è il piano e sembra piacere in qualche modo in linea di massima agli osservatori anche insomma ai sindacati e a chi inevitabilmente dovrà rispettarlo resta il fatto che insomma servono ancora ulteriori investimenti per dare vita a questo sicuramente rilancio da parte dell'ex acerie ilva ovviamente avendo poco spazio dobbiamo un po' semplificare e riassumere in buona sostanza quello che accade e così passiamo anche alla questione alitalia ex alitalia parliamo di ita airways che ricordiamo al momento a 51 jet azzurri l'obiettivo è superare quota 80 e soprattutto trovare il partner ideale il partner commerciale non soltanto strategico con cui portare avanti il diciamo portare avanti la compagnia e in questo senso torna a essere attuale è tornato ad essere attuale lufthansa più di air france più di british airway che al momento si è mosso ma solo in maniera diciamo così esplorativa lufthansa attende ita airways nella sua squadra perché come vedete insomma ci sono già altri nomi che sono fanno parte insomma della squadra appunto lufthansa che ha rilevato swiss ex swiss air austrian brussels ex sabena e anche air dolomiti per quanto riguarda le linee aere italiane rimane ita airways si tratterà di portare avanti questa questa trattativa e se dovesse andare in porto a quel punto si andrebbe a chiudere una telenovela che quanto a lunghezza e forse anche pesantezza potremmo paragonarla a quelle di una volta insomma mi viene in mente topazio con iglesia colmenares ma sicuramente una telenovela che è stata è costata almeno 15 miliardi di euro chi li ha pagati questi 15 miliardi di euro noi i contribuenti e chi se no con la speranza che ovviamente questi quattro dossier questi quattro stress test possano essere affrontati e risolti con successo